Siamo qui nello stabilimento di Trieste, nel reparto propulsione e abbiamo scelto questo momento per presentare ai nostri clienti il mid-size waterjet. Le applicazioni per i waterjet coprono tre fasce di mercato, la prima per il reparto nevi, i secondi utilizzatori sono owner come trasporti di persone dalle isole alla terraferma, gli altri sono gli armatori privati. In il mid-size waterjet design abbiamo avuto un numero di benefici per i clienti e orari. Il primo è che abbiamo usato il pump design che abbiamo usato anche per grandi waterjet, che sono disponibili per i più piccoli vettori. Il secondo, più importante, è il fatto che abbiamo aggiunto l'inlettere, e ora abbiamo anche un passo più più, che abbiamo inserito l'inlettere, che abbiamo già inserito l'inlettere. Il terzo beneficio è che abbiamo tutti gli elettronici e l'hydraulici, che necessitano meno mantenimento e più sicuro operazioni, anche per il fatto che non c'è un rischio rischio per l'ambiente. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!